ben ritrovati con la rassegna stampa questa è la prima edizione di oggi cari amici in studio con voi rosario moreno vienna il terrorista ucciso era un austriaco simpatizzante dell'isis le indagini dicono che in massimo quattro autori dell'attacco arresti e perquisizioni comunque sono in corso quattro le vittime 17 i feriti sei rischiano la vita vienna resta in stato di massima allerta al momento ci sono mille agenti di polizia dispiegati in città e le indagini sono in pieno svolgimento le autorità hanno invitato la gente ad evitare il centro della città le previsioni sugli ospedali che spingono ai lockdown locali insomma c'è una tabella appunto nel penultimo monitoraggio dell'istituto superiore di sanità consegnato il 31 ottobre che ancora più dell'aumento dei casi del tasso di riproduzione del virus rt fino a 1,7 con punte oltre due in lombardia in piemonte ha convinto il ministro della salute roberto speranza dell'urgenza di procedere con misure più drastiche nuovo dpcm insomma verso la conferma delle lezioni in presenza per elementari e medie didattica a distanza per tutte le scuole superiori nelle ultime ore da più fonti della maggioranza e da viale trastevere è arrivata la conferma che le medie continueranno ad essere in presenza i ragazzi e gli insegnanti del primo ciclo nelle regioni che non hanno già applicato ordinanze più restrittivi come puglia campagna andranno ancora in classe almeno finché la curva dei contagi non aumenterà ancora black live matter gli attivisti che votano biden perché tutto è meglio di trump attesa per le elezioni è una promessa siamo qui per restare covid abusi della polizia ed esclusione sociale hanno fatto esplodere i black live matter che ha dato vita alle proteste più vaste della storia americana portando nelle strade circa 26 milioni di persone ora i militanti i simpatizzanti attendono col fiato sospeso la notte del 3 novembre sperando che il risultato sia il meno peggio per loro per il movimento e per l'america le previsioni delle banche d'affari su wall street meglio se vince trump no meglio se vince biden l'importante è che vinca qualcuno l'incubo è quello di una vittoria di misura o peggio contestata fuori da questo scenario le opinioni contrastano secondo gold massage meglio biden jp morgan morgan dice il contrario insomma in generale a determinare le future sorti di wall street sarà molto di più la federal reserve che con la casa bianca secondo la rivista barons il vincitore c'è già insomma e jeremy powell notizie da napoli e dalla campania sorpresi dai carabinieri durante il banchetto per un battesimo tutti sanzionati i carabinieri della stazione di bosco reale durante i controlli in orario serale finalizzati a verificare tra l'altro il rispetto della vigente normativa anticotaggio hanno sorpreso 25 persone di cui una parte proveniente da altra provincia mentre consumavano un banchetto conseguente alla celebrazione di un battesimo all'interno di un esercizio di ristorazione del centro cittadino a 62 anni guarisce dalla leucemia e dal covid dalla storia insomma di speranza da napoli carla questo è un nome di fantasia con i suoi 62 anni e una giovane guerriera che con la sua storia trasmette un importante messaggio di speranza il suo calvario inizia lo scorso marzo quando le viene diagnosticata una leucemia mieloide acuta in piena ondata emergenza covid intraprende le terapie che però non danno gli essi disperati poi un colpo ulteriore cal risulta positiva al covid 19 le speranze per lei sembrano ridotte insomma al minimo quando viene trasferita al policlinico federico secondo di napoli e ammessa d'urgenza nel reparto allestito per la cura dei pazienti covid cornavirus nuovo decesso a torre del greco è morto un uomo c'è un nuovo decesso registrato a torre del greco nelle ultime 24 ore e quanto comunicato dal centro operativo comunale corallino dopo il consueto aggiornamento serale giornaliero con i responsabili sanitari dell'as napoli 3 sud e con l'unità di crisi regionale sulla situazione coronavirus in città notizie dal friuri venezia giulia regione al lavoro per affidare i test rabiti ai medici di base riccardi dice in questo momento il loro ruolo è strategico per contrastare la diffusione del virus abbiamo trovato grande senso di responsabilità da una parte importante delle rappresentanze mi auguro che già nelle prossime ore si possano individuare tutti gli aspetti organizzativi perfezionando le attività operative data la forte crescita del numero di contagi per garantire l'efficacia del sistema di tracciamento del covid 19 è fondamentale un forte coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in questo momento il loro ruolo è infatti strategico per contrastare la diffusione del virus coronavirus 218 nuovi contagi e 5 decessi in friuri venezia giulia consueto calo dei positivi come ogni due dì che appunta ieri a fronte del minor numero di tamponi che erano 2557 eseguiti nel weekend tra i morti una 62enne di san vito e un 74enne di maiano in friuri venezia giulia sono stati rilevati quindi abbiamo detto 218 nuovi contagi a fronte di 2557 tamponi eseguiti e 5 decessi covid 19 si tratta di una 62enne di san vita al tagliamento deceduta in ospedale a pordenone di un 74enne di maiano morto in ospedale a udine di un 86enne di trieste ospite di una struttura per anziani ed è deceduto alla rsa san giusto di una 91enne di trieste ospite di una struttura per anziani ma deceduta in ospedale e di un 92enne di san quirino deceduto in ospedale a pordenone questo lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute riccardo riccardi schianto tra due auto a udine 4 i feriti incidente stradale ieri sera alle 20 via salvo d'acquisto all'intersezione con via umberto zilli incidente stradale intorno alle 20 come dicevamo ieri lunedì 2 novembre a udine in via salvo d'acquisto all'intersezione con via umberto zilli a scontrarsi due auto una peugeot e una volkswagen golf rispettivamente condotta da un uomo di 53 anni di udine e da un giovane di 26 anni residenti a tavagnacco nell'impatto sono rimasti feriti 53enne e tre persone che viaggiavano come passeggeri sulla golf tutti trasportati per accertamente al pronto soccorso dell'ospedale santa maria della misericordia di udine bene cari amici con questo è tutto termina qui questa prima edizione della rassegna stampa in studio con voi rosario moreno buon proseguimento con la programmazione